Immostrazione ed esempi del teorema dell'Hôpital, ma soprattutto ipotesi, dato che sono 5. Allora, cosa ci dice? Abbiamo due funzioni, definite un intervallo in cui un estremo può anche non essere incluso ed è quello in cui noi andremo a fare il limite, e l'altro, chi se ne frega, continui nel dominio. Derivabili, abbiamo un intervallo aperto, deve, devono essere infinitesimi nell'intervallo AB, quindi x che tende ad A, con F e IG, in entrambi devo fare 0, il che significa che possiamo studiare con Hôpital forme 0 su 0 o infinito su infinito, dato che basta pensarsi a come una è reciprocola dall'altra. E la derivata ovviamente non deve annullarsi, dato che, come vedremo, la derivata è al denominatore. E il limite del rapporto delle derivate, che non è la derivata del rapporto, deve esistere. Finito o meno? Se io lo chiamo L, questa cosa, allora il limite di x che tende ad A del rapporto delle funzioni è uguale a questo L, finito o meno. Prima cosa, come non usarlo? Guardiamo questo limite a più infinito di 2x più seno di x fratto 2x meno seno di x. Ok, diciamo, applichiamo Hôpital. Derivata del denominatore, abbiamo 2x che diventa 2 e il seno che diventa coseno. Sotto 2 meno coseno. Perfetto. Ma allora, se la guardo così, capisco che Hôpital non mi basta, perché prossima derivata, perfetto, ottengo coseno, seno, seno, coseno, il 2 mi sparisce e non ci vado. Però, noi sappiamo che ogni successione per il termine del collegamento deve tendere allo stesso limite. Quindi, qualsiasi successione che io scelgo, no? Un x con n che mi hanno insegnato, dovrei ottenere lo stesso risultato. Ma se io scelgo, per esempio, l'estratta di pi ricomezzi più 2k pi greco, ossia quando il coseno vale 0, a più o meno pi ricomezzi, bene, questo limite qua tende a, il coseno di 0 vale 0, il coseno di pi ricomezzi vale 0, che rimane 2 più 0 fratto 2 meno 0, se tende a 1. Ma se io considero l'estratta di 2k pi greco, quando ossia il coseno vale 1, perfetto, ottengo 2 più coseno di pi ricomezzi di 2k pi greco, che fa 1, quindi 2 più 1 fratto 2 meno 1, anche chiamato 3. E quindi, direi che dato che i due numeri sono diversi, se non esiste, ecco, no, non si fa così. Allora, adesso forse vedo che se io riapplicassi, no, il limite, derivate del coseno, ottengo meno seno, qua ho un meno, meno meno fa più, otterrei meno seno, però ecco, di nuovo, cosa mi fate? Mi semplificate almeno 1? Beh, è sbagliato. Perché lo facciamo insieme. Proviamo a farlo veramente con un po' di criterio. limite di x che tende a più infinito di 2x più il seno di x fratto 2x meno il seno di x. Questo lo guardiamo e possiamo scrivere è uguale allo stesso limite di cosa? di 2 più seno di x su x il tutto fratto 2 meno seno di x su x. E, o ce lo ricordiamo, o lo dimostriamo ogni volta, seno di x su x è compreso tra meno 1 e, scusatemi, seno di x è compreso tra meno 1 e 1, quindi dividendo per x, l'insieme di x su x è compreso tra meno 1 su x e 1 su x. Ma, quando facciamo il limite di più infinito qua tende a 0, questo tende a 0, e quindi, giustamente, a più infinito ci dice che anche seno x su x tende a 0. Quindi, lui tende a 0, lui tende a 0 e ci rimane 2 su 2, che fa 1, che è proprio il risultato giusto. Ok, procediamo con la dimostrazione. Allora, abbiamo bisogno di delle funzioni ausiliarie. Dato che f non è definita in A, dobbiamo crearci un f grande che vale f quando x è diverso da A e vale 0 quando x è uguale a A. Tanto sappiamo che il limite di f piccolo in A è proprio 0, quindi stiamo creando dei prolungamenti continui di entrambe le funzioni, sia di f che di g. Ecco, magari mi vengono uguale a A. E 0 quando x è uguale ad A. Perfetto. E per l'ipotesi 1 e 3, 1 e 2, dato che f piccolo e g piccolo sono continue nel prolungamento e hanno il limite 0, f grande e g grande sono continue in A, B, compreso dopo, sono continue qua. Appartengono a classi C0 su cosa? Su questo intervallo. Ok. Adesso, però, studiamole in una restrizione. Quindi, prendiamo f grande e g grande e le definiamo da A a x con x appartenente alla restrizione. Qua è ovviamente una appendisi 4. Ok, in pratica stiamo escludendo gli estremi. Allora, dato che continua nel suo dominio le derivabili in A x, posso applicare il teorema di Cauchy. quindi esiste un punto C appartenente ad A b tale che cosa? La derivata della prima per la differenza delle immagini dell'altra. Faccio notare che qua la differenza delle immagini non è un numero perché dipende da x, quindi è la nostra variabile. È uguale alla derivata dell'altra in C per la differenza delle immagini. quindi f di x meno f di A. Ok. Ma noi sappiamo cos'è f primo di C dato che C appartiene ad A b è un modo scomodo per scrivere f picco di C e anche al suo modo G è G piccolo di C. e abbiamo visto che quando G vale A questo vale 0 e quando F vale A vale 0. Quindi ci rimane f primo di C per G di x uguale G primo di C per F di x. vi verrebbe voglia di scrivere così magari allora F primo di C su G primo di C vorremmo scrivere uguale a F grande su G grande entrambe di x ma questo posso farlo per la nostra ipotesi 4 ok che G primo è diverso da 0 quindi io posso farlo per HP 4 non posso scrivere invece viceversa almeno non subito dobbiamo fare un piccolo ragionamento quindi adesso sappiamo che è uguale a G di x e è uguale a F di x ok e vogliamo trovare il modo di dividere per x allora il caso peggiore è quando G di x è uguale a 0 ossia G di x uguale a G di a uguale a 0 ma stiamo restringendo la nostra funzione in ax quindi a gli estremi uguali potrebbe piccare Rolle quindi per Rolle esiste un punto in cui G' di c è uguale a 0 ma G' di c con c appartenente all'aperto è proprio G' di c ma abbiamo appena detto che posso dividere proprio per ipotesi 4 quindi assurdo perché è contro ipotesi 4 quindi per questo G di x deve essere diverso a 0 quindi abbiamo F' di c su G' di c è uguale a F di x su G di x ma dato che x appartiene ad a b questo è proprio uguale a F' di x su G' di x ci verrebbe da dire facciamo il limite in a e otteniamo la nostra definizione no perché qua abbiamo F' di c e dato che c è compreso tra a e a x non sappiamo quanto vale però posso ripetere il processo quindi io iterizzo con g lo faccio tante volte ogni volta la x la restringo la x la restringo e quindi l'unico punto che mi rimane poi è da quindi finalmente posso dire che il limite di tutta questa roba qua quando x tende ad a sapendo che questo tende a L allora entrambi tendono a L che